Avete pullato Kirara e non sapete bene come utilizzare questo gattino dentro una scatola? Benissimo, questo è il video che fa per voi. Ciao ragazzi, sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. Nel nuovo banner di Yuemiya e di Yaimiko abbiamo presente un nuovo personaggio 4 stelle di tipo Dendro ed il suo nome è Kirara, l'avrete notata, è un gattino praticamente nelle sue forme e nelle sue abilità e si preannuncia essere un personaggio di tipo support shielder che potrebbe fare bene in determinati team anche se, dico la verità, non è rimasto un pochettino deluso dal suo kit. Andiamo a vedere come funzionano i suoi talenti, come funzionano le sue costellazioni, armi e manufatti consigliati per poi andare a vedere i team in cui performa meglio, ma dopo la transizione. Io non posso non partire così, facendovi vedere lei nella sua forma gatto che si arrampica sulle pareti perché fa veramente tanto tanto ridere. Comunque siamo di fronte a un personaggio di tipo Dendro, 4 stelle, che utilizza le spade da mano. Ora, sugli attacchi normali niente da dire se non per l'appunto che hanno messo delle attivazioni e delle animazioni che ricordano quelle per l'appunto di un gatto perché poi nelle varie combo va a utilizzare anche le zampe e gli artigli. Andiamo a vedere i talenti, personaggio sul cui è molto importante il discorso degli scudi. È un personaggio che appunto con la pressione della sua abilità elementare calcio miau teoritico infligge dei danni facendo una capriola e dando dei graffi applicando uno scudo. Questo scudo scala in base alla sua vita massima, quindi sarà importante buildarla con HP e ha una efficienza contro il Dendro del 250%, quindi è molto più forte contro i danni Dendro. Questa abilità ha anche un altro effetto, ovvero se noi teniamo prolungata la pressione del tasto per fare l'abilità entreremo, come vi ho fatto vedere prima, dentro la scatolina e diventeremo più veloci, più rapidi, salteremo di più e avremo anche del danno a contatto con i nemici, quindi se noi andiamo a scontrarci contro i nemici mentre siamo nella scatolina faremo dei danni Dendro e avremo anche con la sua abilità code ammaglianti l'aumento del packaging di riforzo, ovvero l'aumento della potenza degli scudi. Quando la durata termina e l'abilità viene usata di nuovo scatena l'assalto graffiante, ovvero quando finisce e viene riusata faremo lo stesso salto con gli artigli e figgendo i danni come se l'avessimo cliccata una sola volta infliggendo sempre danni Dendro. Questa va in combo con la sua prima passiva che è code ammaglianti, ovvero ciascun impatto contro l'avversario mentre siamo dentro la scatolina fa accumulo di imballaggio forzato, rinforzato. Questo effetto può attivarsi una volta per ciascun colpo assegno ogni 0,5 secondi, quindi lo faremo ogni volta che colpiamo un nemico accumula tre volte al termine dello stato di necopacco urgente, quindi torniamo in forma umana ciascun accumulo crea uno scudo di trasporto sicuro per Kirara. I scudi così creati offrono un 20% dell'assorbimento danno dello scudo di trasporto sicuro creato da calcio meteoretico quindi rafforza ulteriormente lo scudi che abbiamo creato nella nostra abilità. Questi ultimi, chiaramente, quando entreremo nell'abilità, non ve l'ho fatto vedere prima, ora ve lo faccio vedere, nello scudo, quando otterremo lo scudo da pacchettino, quando entreremo nel pacco come un gatto il tempo di ricarica riparte dal momento in cui abbiamo finito l'abilità, quindi non continua mentre siamo nel pacchetto quindi dovremo poi aspettare cosa? Dobbiamo aspettare tutto il tempo di ricarica che varia tra i 8 e i 12 secondi. Il massimo assorbimento di scudi che può avere lei comunque è una percentuale che va in base al livello dell'abilità quindi non è che più KKP abbiamo, cioè lo scudo comunque ha un limite che segue la forza del suo talento. Lo scudo dura 12 secondi, quindi se noi andiamo da un nemico qualunque, tipo andiamo da un gruppo che quello lì grida correndo e dandoci fuoco e attiviamo solo una volta la skill, lei farà, vedete, questa capriola, tre particelle, ho la favonius, quindi ho critato, quindi non ho fatto di più, ho uno scudo applicato e tendenzialmente sarò un pochettino sfudato. Se io invece tengo premuto, vedete, divento gatto, vado contro i nemici e mi scontro con essi. Alla fine dell'abilità, quando finirà, io darò il colpo, lo scudo è boom, e vedete che ho di nuovo lo scudo perché avremo, come vi ho detto prima, l'efficienza dell'aumento dell'efficienza dello scudo, non dell'efficienza scusate, la resistenza dello scudo pari a quanti rafforzi accumulo avevo avuto. La sua, invece, tribù di elementare, il suo tribù di elementare, quindi la burst, è arte segreta, spedizione a sorpresa. È semplicemente lei che lancia un pacco, fa un'esplosione, oltre a infliggere danno dentro da questa esplosione, verranno fuori delle bombette, che sono i cardamomi di Armagatta, sul quale i nemici subiranno dei danni dentro se gli andranno sopra o entreranno a contatto con esse. Queste ultime possono essere reindirizzate grazie appunto a Yanemo, quindi non so, al vento di caso o di eventi, che le possono raggruppare tutte. Quindi semplicemente faccio la skill, lancio il pacchetto e vedete che ci sono le bombe. In giro, se questi ultimi vanno sulle bombe, prendono dei danni di tipo dendro. Niente di più e niente di meno. Questo scudo diciamo che non è il migliore, anzi, è probabilmente uno dei peggiori scudi attualmente che ci siano, se, se però, diamo un contesto, lo andiamo ad utilizzare all'interno di team con alti danni da fioritura, quindi vado ad assorbire i danni dei bloom, oppure contro nemici che hanno degli alti danni da dendro, grazie a quelle fissi del 250%, che invece sicuramente la rende molto 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 valida. Il suo secondo talento passivo è abbastanza anonimo, perché questo aumento dei danni è quasi, è veramente poco percettibile per ogni 1000 punti salute, non è una cosa che voi potete dire, ah sì, arrivo a 50k di vita e vedo i danni grandi, non arriviamo, non è, non è così, è un po' trascurabile. A dire la verità. Andiamo a vedere le costellazioni, e anche sulle costellazioni ci sono un po' di cose da dire, normalmente in una direzione, cioè forse la polemica che si sta facendo in questo periodo riguardo a ogni personaggio per farlo burcare salvo le costellazioni, ecco qua siamo di fronte a qualcosa di forse un po' diverso ancora, che non capisco. Comunque andiamo sulla C1, C1 per ogni 8000 punti salute di Chirara crea un cardamomo di Erbagatta in più quando usa la sua burst, in questo modo è possibile creare fino a un massimo di 4, va bene, carino, abbiamo un cardamomo in più. La C2 è praticamente una roba solo per multiplayer, cioè quando Chirara nello stato di pacco conferisce degli scudi di trasporto critico agli altri membri del gruppo, che in single player non ha senso, cioè non serve. L'assorbimento danno di uno scudo di trasporto critico appare al 40% dell'assorbimento di uno scudo di trasporto creato da calcio meteoritico. Quindi è quella famosa roba che si dà, no, vado in multiplayer, ti do uno scudo, ma è uno scudo molto inferiore rispetto a quello che ho io. E però la efficiency è sempre il 250%. Durano 12 secondi questi scudi possono essere attivati una volta nei 10 secondi su alcun personaggio. Se non lo giocate in multiplayer questa questionazione è totalmente inutile. Andiamo sulla C4, invece, quando i personaggi attivi protetti dai due tipi di scudi gli colpiscono gli avversari con attacchi normali, caricati o in picchiata, Chirara esegue un attacco coordinato usando i mini cardamomi di Erbagatta, infliggendo danno ad Endro pari al 200% del suo attacco. I danni inflitti in questo modo sono considerati danni da tripudio elementare. Questo effetto può attivarsi una volta ogni 3.8 secondi. Questo tempo di ricarica è condiviso da tutti i membri del gruppo. Questa è forse la considerazione più interessante per quanto riguarda lei, che scala suo attacco, quindi avremo bisogno di un po' di attacco nelle sue statistiche, ma che giustifica poi il set che le andremo a mettere, che secondo me è il Noblesse Oblige, quello sul quale ci si può andare proprio tranquilli per una questione anche costo-efficency, ma questo dà anche per l'appunto un senso un po' ai danni che può fare con laterali grazie appunto alla sua presenza di campo agli scudi, poiché questi danni dai mini cardamomi sono considerati danni da tripudio elementare. Quindi sappiamo che il Noblesse Oblige aumenta i danni da tripudio elementare. Se volessimo andare sulla C6, invece, quando usa l'abilità o il tripudio elementare, fornisce a tutti i membri del gruppo il 12% di danni per tutti gli elementi per 15 secondi. C6 carina, molto molto carina, quindi C4 e C6 assolutamente sono le due costellazioni, se volete andare a costellare Chirara, importanti per lei. C1 e C2, C1 quasi inutili, specialmente la C2. Andiamo a vedere adesso quali sono le armi e i manufatti consigliati. Come al solito, signori, io vi invito a equipaggiare la ciabatta del destino, giocate quello che preferite, quello che pensate sia più giusto in base anche a quello che è il vostro account. I miei sono solo consigli, se li seguite funzionano bene, se non li seguite meglio. Sicuramente sapete meglio voi come funziona il vostro account, ma normalmente vi possono aiutare. Partiamo con le armi. Siamo di fronte a un personaggio che va in HP, quindi è inutile starci a nascondere. Le armi che vanno in HP sui 5 stelle sono due, principalmente quelle forti forti, quindi la chiave con la parte del Nisut, che va in PS percentuali, che è un'arma che migliore, la signature weapon di Nilo, con i PS aumentano del 20% oltretutto, che però difficilmente la toglieremo da una Nilo o da una Cookie, non certo per Chirara secondo me, oppure abbiamo dall'altra parte anche una spada di Giada Primordiale, per una sua versione più di PS, che comunque gli aumenta i PS del 35% come passiva. È un tasso critico come primaria. Se no, invece, per quello che riguarda le 4 stelle, è un personaggio, essendo che andremo a giocarlo principalmente super con gli scudi, che andrà a puntare su cosa? Andrà a puntare o su ricarica di energia o, a questo punto, su mestiere elementale, nel momento in cui lei applica con le collisioni lo stato Laura Dendro ai vari nemici. Quindi avremo la possibilità di andare a giocarci o un Chiarore di Xiphos, che è sicuramente un'arma molto valida, Sacrificial Sword, quindi la spada sacrificale, la Favonius Sword, come la sto giocando io, che è assolutamente forte, ma forse la sua soluzione free-to-play più valida in assoluto è la Lama di Alburno. Perché? Perché va di ricarica di energia, lei viaggia tranquillamente su un 160 ADR, siete a posto, perché la sua burst costa sui 60. Ma è che dopo aver innescato una di queste reazioni, arriva la foglia attorno al personaggio che si viene raccogliato, in realtà gli dà maestria anche elementare per 10 secondi, e più possibile generare una sola foglia, in questo modo ogni 20 secondi. Quindi gli dà la possibilità di avere anche della maestria elementare. Volendo, volendo, si può giocare anche la Iron Sting, per una questione anch'essa di danni elementali e maestria elementare. Personalmente io Favonius e Sacrificial Sword e Sapwood, quindi l'Alburno sono le opzioni free-to-play, le opzioni 4 stelle che mi sento di consigliarvi. Per quanto riguarda i manufatti, siamo di fronte a un personaggio che nel suo ruolo, ovvero quello di support shielder, raggiunge forse il massimo grazie al suo Noblesse Oblish. Ma perché vi dicono Noblesse Oblish e non vi dico subito io andrei dritto su i 2000 Elite 2 Vorakasha, che poi è un'altra delle opzioni. Perché lo scaling del suo scudo sui HP, ripeto, come vi ho detto all'inizio, non è uno scaling così elevato da poter, secondo me, far valere la pena di andarsi a distruggere magari dentro dei domini che in verità poi ci potrebbero far veramente cambiare poco l'efficienza e la resistenza dei suoi scudi. Quindi secondo me tanto vale giocarsi un Noblesse Oblish HP, HP, HP e avere comunque anche un utility per gli altri membri del party aumentandogli l'attacco una volta che andiamo in burst. L'alternativa, come vi dicevo, era invece quella di giocarsi i due pezzi del 1000 Elite che per l'appunto ci danno un 20% di HP in più uniti a il Vorakasha che ci dà altri 20% per un aumento del 40% per andare su HP, HP, HP. In alternativa avete, lo so che fa un po' strano, ma avete l'instructor che vi dà coi due pezzi maestria elementare dell'80, ovviamente ha gli 80 la maestria elementare, coi quattro pezzi dopo che avete triggerato una reazione incrementate la maestria elementare di tutti i membri del party di 120. E ironicamente, ironicamente, so che fa strano, ma un set del genere, soprattutto nei team dove l'andremo secondo me a giocare di più, rende lei forse più utile perché oltre che andare a dare un po' di HP sugli scudi che però, ripeto, lo scudo non è così forte, va a dare tanta maestria elementare a qualcun altro che magari 120 è parecchio che magari in quel momento sta facendo delle reazioni importanti all'interno delle rotazioni. Per dirvi, giocarla con un anilo in un team del genere con fioritura è davvero forte perché permette davvero tanto di fare dei danni da fioritura ancora maggiori grazie alla maestria elementare. Detto questo, cosa gli andiamo a dare? le andiamo a dare HP, HP e HP. Come substanti stiamo cercando maestria elementare, HP, ricarica di energia e poi il resto chiaramente su attacco percentuale e danni in generale. Se la volete fare DPS, cosa che personalmente a me non fa impazzire e che non consiglio, andate di sogni dorati. Quindi maestria elementare con i due pezzi, con i quattro pezzi, sia la maestria sia l'attacco percentuale in base all'assortimento del party. Vita o attacco percentuale sulle sabbie, Dendro damage bonus sulla coppa e danno critico, tasso critico sulla corona. Mi sembra veramente strano ma sono più quasi inclina a dargli un instructor per come secondo me la si gioca in questo momento che altro e che mi fa veramente rabbrividire, tremare i polsi. però alle cuscine. I team in cui Chirara brilla sono chiaramente quelli dove serve l'affiancamento di un supporto un secondo Dendro all'interno di un team che vada a dare delle reazioni elementali importanti, che abbia un driver anche di un altro elemento. In questo caso abbiamo ad esempio Burgon con Toma e lo andiamo a affiancare a un Al o una Naida grazie a Yelan Xinchu. Oppure possiamo andare in un team a Gravit Spread dove appunto Chirara Naida, Chirara Al con Fischle Yaemiko per dirvi. Oppure possiamo andare avanti con dell'iperbloom estremamente forte con Chirara Naida, Chirara Traveler Dendro o Al con Yelan Xinchu e con Kishinobu per poi arrivare probabilmente al team più forte di tutti che è quello di Naida Chirara assieme a Nilu Kokomi. Il Kokomi può essere cambiata con Barbara, Naida può essere sostituita col Traveler di tipo Dendro e qua brilla particolarmente grazie alle Fischency contro il Dendro quindi alle riduzioni dei danni di Dendro Core che andremo ad avere grazie allo scudo di Chirara o uno scudo che è buono perché può essere applicato ai personaggi che in quel momento sono in fight. Personalmente ritengo che Chirara sia un personaggio molto molto strano non ne capisco l'adoro è carinissima a livello estetico è davvero simpatica l'idea di fare la scatolina di far sì che lei si arrampichi in giro è qualcosa di veramente buffo e divertente non c'è non c'è niente da dire però ecco magari all'interno di questo momento storico di Genshin di patch è tutto e soprattutto con il tipo di scudo le caratteristiche che gli sono state date mi ha un po' confuso su quali potrebbero essere i suoi veri utilizzi e la sua reale componente all'interno del mondo di Teyvat che per ora mi è ancora oscura detto questo signori io vi ringrazio vi auguro una buona serata United State of Zerga ciao belli grazie a tutti